Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Andrea Zenga ha già in mente la novità, sta per essere richiamato in uno studio TV per una nuova occasione incredibile, l'indiscrezione L'ex Jeffino Andrea Zenga ha già un'ottima scusa per tornare in TV In questi ultimi mesi il figlio di Walter Zenga si è dato da fare lavorando online attraverso i social, sempre al fianco di Rosalinda Cannavò I due hanno trovato un equilibrio già da quando sono usciti dal GFVIP, sono andati a lavorare a Milano e hanno deciso di convivere poiché ormai troppo affiatati Da poco hanno anche adottato un cagnolino che trattano come il vero e proprio piccolino di casa con mille attenzioni Con questa relazione che va a gonfie vele, però, non tendono a dimenticare gli impegni lavorativi Rosalinda in particolare è da tempo che cerca di portare avanti la sua passione per il canto e i tanti sforzi hanno fatto sì che il conduttore Rai si accorgesse di lei Parliamo proprio di Carlo Conti che non appena ha visto il provino di Rosalinda Cannavò, capendo il suo impegno e la forza di volontà, ha deciso di prenderla in squadra Nella nuova stagione di Tale e Quale Show, quindi, la Cannavò sarà tra i partecipanti e negli ultimi mesi non ha fatto altro che allenare le corde vocali per riuscire a fare bella figura Dall'altra parte, così come succede al grande fratello VIP di Alfonso Signorini, anche per Tale e Quale Show è utile chiamare come ospiti personaggi legati ai concorrenti, in modo da creare un filo conduttore con l'attualità Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao! Ciao! Ciao!